Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia del Paris Saint Germain per la stagione 21-22, nella versione FUN, quella cioè dedicata ai tifosi. La maglia è di colore blu a tinta unita, con le bordature delle maniche e del colletto con questa fascia bianca e rossa. Anche il retro della maglia è completamente blu. Da vicino si può vedere la trama della maglia che ha in questa fascia centrale una trama punteggiata. Il logo Nike, in questo caso Jordan, lo stema del club sono ricamati mentre il main sponsor è termosaldato. Come vi dicevo le maniche hanno questa bordatura bianca con banda rossa centrale molto bella che ricorda i colori del Paris Saint Germain. Lateralmente c'è questa fascia di colore sempre blu. Il colletto è a giro collo e si vede sempre la lavorazione questa bordatura bianca con banda rossa. Molto bella vero? Nella mia classifica questa prende tre stelle. Bella, una maglia da avere, ma se devo darvi un consiglio di questa prendete la versione player. Trovate qua peraltro la recensione. Molto più curata e secondo me più bella in questo caso. Tra l'altro in descrizione ne trovate tutti i riferimenti. Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedrete le misure della vestibilità, vi prego di lasciare un like al video ed iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia M della versione replica, quella dedicata ai tifosi. A presto! A presto!